Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Fedez, nel video in cui confidava di avere problemi di salute, ha manifestato il bisogno di avere accanto la sua famiglia E la famiglia non ha alcuna intenzione di lasciarlo solo.In questo momento ho bisogno di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli, ha spiegato Fedez dopo avere annunciato di avere dei problemi di salute Che lo costringono a sottoporsi a un percorso di cure E la famiglia, in cui adesso sente di doversi rifugiare per poter mantenere il suo equilibrio, è compatta al suo fianco Una vicinanza sia concreta, che manifestata pubblicamente su social I messaggi di Valentina Ferragni e Luca Vezil per Fedez.Valentina Ferragni ha pubblicato nelle Instagram Stories, un messaggio per Fedez Anche lei, dopo averlo fatto di sicuro a voce, ha voluto manifestare il suo affetto per il cognato anche pubblicamente Poche sentite parole, siamo con te e con voi.Il fidanzato di Valentina Ferragni, Luca Vezil, ha pubblicato una serie di scatti e video che lo ritraggono con Fedez Ad accompagnare il post, un cuore e due spade, simbolo di una battaglia che combatteranno tutti insieme Francesca Ferragni e il cuoricino per i Ferragnez.Chiara Ferragni ha pubblicato un post per ribadire una volta di più, che suo marito non ha nulla da temere, perché la sua famiglia è accanto a lui L'imprenditrice ha diffuso uno scatto di famiglia accompagnato da una dedica Ci vediamo nei prossimi video